aca stiamo c'è ma adesso già arrancaste voce io sto giocando con il bol. Hola come le va? Julio mes di hamburguesa e oggi va a essere una hamburguesa di pocho. Pocho ben friladera piccato logicamente si può che un carrizzoglio lo picche peciuga patto di muslo lo che le gusta e l'importante è che oggi le facciamo di pocho. Muy facile pocho adentro ai perfetto. Il pocho che hai tiene questa caratteristica che è abbastante blando e che ha che aiutarlo a saccare l'umidà io ho utilizzato un pocho di parrallato aca sta un parrallato comune ok o direttamente puoi tambien remojar una miga di pan direttamente con un pochino di lecce e mesclarla però il pan che fa? Assorbe lo che è l'umidà del pollo aca sta che le vamos a agregare un pochino di cebolla buona cebolla picata aca mire una buona cebollita picata e ora io lamentablemente il diente di ajo hoi lo voy a poner. Aca tengo un diente di ajo io manejo con guante per una question di bromatologia e dico Vanessa che si riei sempre a casa si se bromatologia bromatologia dico per una questione di igiene come si dice in italiano igiene ok ajo adentro perfetto un diente di ajo no tanto medio diente di ajo lo claro aca tengo una sal una sal con especia con romero salvia tomillo picado fino adentro que voy a agregar al pollo un poquito de sal no puede faltar el orégano parte integrante de la comida y no las hamburguesas el orégano pizza y hamburguesa el orégano va ojo eh es una opinión personal no quiero que nadie se enoje un poquito de pimiento damole color a este pollo che a veces tiene un color diría casi anemico eso perfecto mezclamos lo pollo aca e mezclamos perfecto vedete che è abbastante blanda la massa il parrallato hace che amalgamandola tome consistenza aca lo tenemos facil 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 eso perfecto tenemos nuestra massa preparada la pongo a un costado me saco los guantes come costumbre una vez amasado y voy a hacer nuestra hamburguesa aca, aca esta el molde de los milagros siempre como siempre un buen papel film para hacer de manera que se despegue la hamburguesa aca, aca arriba, despacito, porque como dico Napoleone vestime despacito que estoy apurado ok, ahi estamos aca vamos a poner la hamburguesa la carne de la hamburguesa adentro en el molde ahi es suficiente dos en este caso hay que hacer eso agarren un hojitas un poquito de aceite, yo uso oliva, ustedes pueden usar también maíz disparame un poquito de aceite aca arriba del papel e arriba perché se no il pollo si pega e poi va a tener problemi a desmontarlo. Ora vamo, prensiamo, così. Abbiamo la plancha al palo e qui abbiamo la hamburghese di pollo lista. Abbiamo alla plancha, abbiamo come sempre, la hamburghese. Ora si è iniziato il humo, Vanessa preparate che si è iniziato il humo. Abburghese di pollo alla plancha. Hacciamo due? Dale, facciamo due, Vanessa, che abbiamo tempo. Due. Mentre questa si cucina io preparo la otra. Allì. Importantissima. La hamburghese di pollo deve essere ben cozzata, sì o sì. La plancha non è molto forte perché se non si è iniziato molto nella base e non si cucina bene dentro. E cucina la spazio. Acá siamo, vamo con la altra. Uno, due, tre. E la hamburghese è iniziato. Vamo alla plancha, se non vuoi insuciare, faccio questo, mire, è molto facile. Eso, la hamburghese di pollo alla plancha. E stava pensando, mire me, non mire la hamburghese, mire me a me. Che vamo a tenere acá? Un pochito di tomatito. Una rodacchita di tomatito che vamo a fare alla plancha también. Allì. Despacito, escuchen il ruidito. Tomatito alla plancha. Lindo, sabroso. Se lo chiede, non lo hagan, però a mi me gusta. Le pongo un pochito di orégano. Asì. Perfecto. Un pochito di sal. Un pochito. Eso. E un chorrito di acieto di oliva che non può farlo. A casa están cocinando una hamburghese. Però di che c'è? Vanessa, tengo una palta acá. Pelo la palta. Dico, sabe che? La palta es importante, che tenga una maduración perfetta para sacar la cascara. Però mira che linda que está. Sabe che? La tiro alla plancha. Oh. Ma sí. È buonissima. La palta alla plancha, sabrosissima. Con un poco di acieto di oliva, sale e pimienta. È espettacolare. Una palta a fuego con un poco di acieto di oliva, sal e nada más. E acá tengo una mussarela. La mussarela fiordidace perché oggi decidì di fare la hamburghese del pollo estilo caprese. Tappo con mussarela. Ojo, eh? Èsto derrite muy, muy rápido. Mussarela. Fácil. E acá tengo toda la bassi, dale, toda la buona hamburghese con mussarela. E, vamos. Escuchen el ruidito della mussarela che sta cayendo arriva alla plancha. Acá tengo il pan che tuve tostando, sta bien, bien, bien con colore, tibiecito. Que lo agarro acá, ponemos il primero nel plato. Así. Perfecto. Vamos a levantar, vamos a levantar todo. Acá sta, mire la mussarela come si direttiò, che calientino che sta tutto questo. Allì sta, la mussarela che sta ben, ben derretita. Che faccio? Plato. Hago una sola per ora, perché se venga a casa e ho il plato che mi entra una sola. Mira che il dito che fa, che fantastico. Uno tomatito. Que se acuerda che questi tomatito anche terminaron alla plancha. Uno, due e tre. No, no, è spettacolare. E acá per fare lo ben mediterraneo, ben, ben caprese, che facciamo? Dos hojita di albaha. Arriba. Una e una más para terminar. Pan. Acá tengo una salsa criollita hecha con un queso cremoso para darle un toque mágico. Al final, esparramamos, damos vuelta. E tenemos esta hamburguesa. El pan de pita de cerdo con tomate, mussarela e albahaca lista per a ustedes a casa del mes de julio. Esto también sabe qué hago. Me la llevo. Ciao. Vanessa, me olvidé la palta. Tan sabrosa palta que la tengo. Palta alla plancha que la pongo nel borde del plato para comerla con esta hamburguesa. Cada mordisco un mordico de palta. Ahora sabe qué? Sí que me voy de verdad. Ciao. Ciao.